Cari amici, l'ecosistema DGU è online. Sono Alexei Ognev, il CEO del progetto. Oggi con noi abbiamo Alexander I, il direttore dello sviluppo strategico. Oggi parleremo di un fondo di capitale di rischio. Come sapete, il fondo di capitale di rischio è sempre stato parte integrante dell'ecosistema DGU e l'orientamento di questo fondo di capitale di rischio è sempre stato interno. Abbiamo sviluppato i propri progetti, abbiamo tratto progetti nell'ecosistema e col tempo, con la comprensione del mercato, ci siamo resi conto che l'orientamento doveva essere sia interno che esterno. Allora abbiamo iniziato ad esplorare quest'area. Come possiamo sviluppare il nostro fondo di capitale di rischio all'esterno. Oggi, in questo webinar, io e Alexander parleremo proprio di questo. Da diversi mesi raccontiamo delle idee di sviluppo esterno e Alexander condividerà oggi come è nata questa idea e perché è importante ora per l'ecosistema DGU. Alexander, passo la parola a te. Ti saluto, parliamone. Saluto tutti. Sì, l'idea di un fondo di capitale di rischio non è nuova. Ne parliamo ormai da più di un anno e mezzo e ci rendiamo conto che non saremo in grado di sviluppare tutto da soli. La velocità di sviluppo è tale che non avremo abbastanza tempo, risorse umane o manageriale per farlo. Quindi, naturalmente, siamo interessati ad attrarre nell'ecosistema e finanziare quei progetti che rafforzerebbero il nostro ecosistema, che potrebbero integrarsi nell'ecosistema e integrarsi con altri progetti dell'ecosistema. Ogni progetto sarebbe un prodotto separato, come Eva, ma allo stesso tempo sarebbe un mattone o un fondamento o a volte un tetto o una finestra nella casa che stiamo costruendo verso un'identità digitale, verso un metaverso. Sicuramente lo capivamo da molto tempo e più ci sviluppiamo, più comunichiamo con i grandi fondi di capitali di rischio operativi che sono da tempo sul mercato globale. Adesso comunichiamo con i migliori fondi di capitali di rischio della Silicon Valley, di Dubai, dell'Europa, della Cina, di Singapore, della Russia, dei paesi della comunità, delle stati indipendenti, eccetera. Ora capiamo come è organizzato questo mercato, la sua cultura e le sue particolarità che prima c'erano inaccessibili ed è poco probabile che sembrino ovvie alla maggior parte delle persone, anche a quelle che pensano di capire come funziona questo mercato. Come siamo riusciti a capire come funziona? Oltre a parlare con i fondi di capitali di rischio e del finanziamento e del supporto strategico del progetto EVA, raccontiamo anche che sarà creato un fondo di capitali di rischio dell'ecosistema, almeno per il progetto EVA. EVA è un progetto di infrastrutture e EVA avrà un fondo di capitali di rischio che investirà, aiuterà i progetti, fornirà supporto, facendo conoscere ad altri progetti, fondi, appaltatori, revisori, eccetera, affinché questi progetti lavorino in base al protocollo EVA e aumentino così il numero di utenti, il numero di transazioni, il fatturato, il TVL, la quantità di fondi bloccati che sono nel progetto EVA. Certo, i fondi erano interessati non solo a investire in EVA, ma anche a investire nel nostro fondo di capitali di rischio dell'ecosistema, sia dal punto di vista della partecipazione finanziaria, sia per fare analisi insieme, selezionare progetti, aiutarli insieme, discuterne, perché abbiamo abbastanza esperienza in questo processo. Penso che sia più profonda rispetto a molti fondi di capitale di rischio, perché lì ci sono per lo più uomini d'affari, persone con una mentalità economica, però spesso servono competenze tecniche per analizzare quanto il progetto sia fattibile e noi abbiamo questa competenza. Così ci siamo resi conto che il fondo di capitale di rischio deve essere rivolto al mercato ampio e ora abbiamo una comprensione più precisa di come funzionerà il nostro fondo di capitale di rischio. Prima di passare alle riflessioni su come funzionerà il fondo di capitale di rischio, ci hai detto nelle nostre conversazioni e nel webinar che studiando questo mercato sei riuscito a vedere alcuni momenti precedentemente non del tutto ovvio di come funzionano questi fondi di capitale di rischio. Forse condividi quelli più interessanti con i nostri ascoltatori, come funzionano e perché funzionano così. Condividerò le mie scoperte, cioè ciò che era nuovo per me, ciò che ho imparato strada facendo. Cominciamo con i classici fondi di capitale di rischio. Non definiamoli troppo, basta separarli dai fondi di criptovaluta che investono in cripto progetti. I classici fondi di rischio, che investono nella biotecnologia, nel settore informatico e in alcune altre tecnologie, hanno un orizzonte di pianificazione di 5 anni, 7 anni o 10 anni. Il fondo di capitale di rischio ha enormi rischi lungo la strada. Più piccola è la fase del progetto, più alto è il rischio e hanno le loro peculiarità nello studio e nella selezione dei progetti. E come funzionano questi fondi di capitale di rischio? Viene raccolta una certa quantità di denaro, per esempio 100 milioni di dollari e questo si chiama, per esempio, Anderson Horowitz ha lanciato un fondo di 100 milioni di dollari per 7 anni, per esempio. E questo fondo ha il suo memorandum di investimento, cioè è scritto a quale condizioni, in quali progetti e in quale settore investe proprio questo fondo. In altre parole, lo stesso fondo Anderson Horowitz può avere un fondo da 500 milioni di dollari che investirà nel settore delle criptovalute e un altro da 300 milioni di dollari che investirà nelle biotecnologie e possono avere diversi periodi e diversi memorandum di investimento. Questa è la prima cosa particolare. La seconda particolarità è che pensavo che questi fondi di capitale di rischio funzionassero così. Raccolgono tutta la somma di denaro subito, per esempio 100 milioni di dollari e giaci sul conto e in qualsiasi momento ne fanno qualcosa. No, non è esattamente così che funziona. Ci sono impegni da parte degli investitori. Ogni fondo di capitale di rischio ha degli investitori. Di solito sono un certo numero di grandi investitori. Per esempio 5 persone o 5 aziende garantiscono che investiranno 20 milioni di dollari durante 7 anni. E quando il comitato di investimento si riunisce per vedere il progetto e dire che bisogna trasferire soldi a questo progetto allora questi soldi si trasferiscono. Di solito c'è comunque una certa riserva ma non è che giacciono subito 100 milioni di dollari e giacciono per 7 anni mentre l'investimento va avanti. No, non funziona così. Al primo sguardo sembra logico ma non era ovvio per me. È stata una novità. Mi chiedevo come funzionava. Quindi il denaro giace in attivo e non funziona per 7 anni. Che strana storia. In effetti non è così. Il terzo momento. Ora parleremo anche del mercato delle criptovalute. Perché crediamo che le criptovalute siano più vicine alla gente. Danno alla gente la possibilità di toccare gli investimenti in questi settori, in questi ambiti, in progetti ad alta tecnologia. Ora ci sono molti pool o fondi comunitari che si riuniscono, che mettono ognuno 100-1000 dollari con alcuni piccoli assegni e possono investire una quantità significativa di denaro. 100-200-500 mila dollari nella fase iniziale al private round in qualche cripto progetto. Adesso sono apparsi molti pool del genere. Almeno sei mesi fa ce n'erano moltissimi. Reagiscono molto rapidamente al mercato. Ora c'è una correzione, un declino in questo mercato. Queste sono le stesse persone che partecipano ai vari IDO. Di solito si tratta di persone con piccoli assegni. Ma in generale è un'opportunità per entrare nel private round di alcuni progetti interessanti. Non c'è nessun memorandum di investimento. Conosciamo un certo numero di questi pool. Ci sono domande sulla selezione dei progetti, come li selezionano. A mio parere c'è più di una componente hype. Probabilmente oggi dirò molte parole nuove. Una strategia di flipping per entrare rapidamente e uscire rapidamente con il massimo guadagno. È il sogno di qualsiasi criceto nel mercato delle criptovalute. Qualcosa del genere capiterà sempre di meno. Ce n'è già meno e ce ne sarà ancora meno. Cioè questo mercato diventa più civile, più efficiente, anche se c'è ancora molta spazzatura, diciamo così, quando copiano altri progetti con lo scopo di raccogliere denaro e non sviluppare nulla. Dunque, questi pool sono molto utili lo stesso, perché creano un'odazione di massa, cioè che sempre più persone cominciano a partecipare in questo processo. E in realtà i grandi fondi di capitale di rischio sono gli stessi pool, solo che non sono mille persone che mettono insieme 100 dollari, ma cinque persone che mettono insieme 20 o 50 milioni di dollari. Questa è la differenza. Spiegare a cinque persone che investiamo in questo progetto e negoziare con loro è molto più facile. E di solito quelle persone che hanno così tanti soldi sono pronte e capiscono che investono per sette anni. Hanno una certa strategia. Ed è meglio per i progetti ed è meglio per i fondi. È più stabile, è più chiaro. È un mercato così maturo. Si è formato per prove ed errori in un periodo di tempo abbastanza lungo. E ora il mercato del capitale di rischio, delle criptovalute, assorbe il meglio del mercato classico e il mercato classico cerca di assorbire il meglio del mercato delle criptovalute. Cioè i tempi degli investimenti si accorciano. Il ritorno dell'investimento inizia ad avvenire prima nei progetti di criptovaluta. Nei progetti di criptovaluta è difficile perdere tutto a zero. Nei classici investimenti di capitale di rischio l'investimento può trasformarsi in zero. È poco probabile che in un progetto di criptovaluta un token costi proprio zero se c'è stata almeno una selezione di qualità o la sua verifica iniziale. Questa è la terza particolarità. Come l'abbiamo saputo? È stato anche sorprendente. Ci sono i cosiddetti fondi di fondi. Per esempio, c'è un fondo attraverso il quale investono nel mercato delle criptovalute fondi statali di Abu Dhabi, Corea del Sud, Bahrain, paesi arabi. Ce ne sono non solo arabi ma anche gli altri. Ma faccio l'esempio di quelli arabi perché li conosciamo e comunichiamo con loro. Questo fondo riceve i soldi da questi sei fondi statali ma investe direttamente nei progetti solo il 20%. Seleziona i progetti da solo, analizza. Ma la maggior parte di esso, cioè l'80%, investe attraverso altri 20 grandi fondi di capitale di rischio. Quindi i fondi investono l'uno nell'altro. Cosa significa questo? Essi, si può dire, condividono le responsabilità tra loro. Cioè un fondo affida ad un altro fondo la selezione dei progetti, la ricerca dei progetti e l'aiuto al progetto perché abbia il successo. Cioè una cosa è investire, ma un normale, bravo investitore strategico che investe grandi somme e buoni fondi di capitale di rischio aiutano non solo con i soldi. C'è molto denaro nel mondo ora, ma i progetti non lo prendono. Tutti i progetti hanno bisogno di smart money. Oltre al denaro hanno bisogno di qualcos'altro. La conoscenza con i migliori giocatori del mercato, possibili collaborazioni. Il progetto IVA, oltre al finanziamento, avrà bisogno di liquidità iniziale al momento del lancio. Ci stiamo già pensando adesso e conduciamo le trattative. I partner strategici sono pronti a fornire quella liquidità in modo che IVA venga lanciata e già giacciono diversi milioni di dollari di liquidità perché la gente possa scambiare centinaia di migliaia di dollari da diverse blockchain. Questa è una quarta particolarità che ci sono fondi di fondi e i fondi investono parte del loro capitale l'uno nell'altro. Credo di aver elencato le cose principali, se mi viene in mente qualcos'altro lo aggiungerò. Sono state le informazioni molto preziose e farò notare ai nostri spettatori che queste informazioni provengono dalle novanti del finanziamento del capitale di rischio. Se sentirete questa esperienza altrove sarà molto raro. Quindi apprezzate e studiate quello che trasmittiamo in interviste del genere. Dato quello che hai imparato, data l'esperienza che hai acquisito e quello che ci hai raccontato ora su queste quattro particolarità, verso quale progetto di fondo di capitale di rischio propendi per l'ecosistema di GEO? Quali sono le cose migliori da prendere da lì e da applicare da noi? Ho capito la domanda che è in realtà complicata perché non forziamo il lancio di un fondo di capitale di rischio ma pensiamo di lanciare un fondo di capitale di rischio come un prodotto separato dell'ecosistema. perché c'è un certo numero di questioni in questo ambito che richiedono qualche soluzione o qualche scelta perché l'una o l'altra soluzione ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Per esempio, abbiamo fondi di capitale di rischio e grandi investitori disposti a investire nel nostro fondo di capitale di rischio e in teoria possiamo prendere un milione di dollari ciascuno da dieci investitori e il nostro fondo di capitale di rischio sarà lanciato oppure possiamo permettere a più grande numero di persone di investire e diventare una fonte di finanziamento per il nostro fondo di capitale di rischio. Dal punto di vista della comodità, della gestione di questo fondo e di spiegazione di certe cose è più facile la prima opzione perché in generale si tratta di persone che non hanno nemmeno bisogno di una spiegazione vogliono farlo loro stesse e sono interessate da soli cioè delegano a noi la selezione, la competenza e il sviluppo del progetto. Ma allo stesso tempo nel nostro concetto miriamo a far funzionare la tecnologia a beneficio delle persone affinché la gente comuna possa guadagnare da questo punto di vista sicuramente vorremmo avere il massimo numero di investitori nel nostro fondo di capitale di rischio. Questo è primo. Secondo, se abbiamo un gran numero di investitori allora questi investitori sono interessati che i prodotti e i progetti in cui investiamo si sviluppino e queste stesse persone possono diventare i primi utilizzatori dei prodotti. Per esempio, nel progetto IVA, nel private round, investono altri criptoprogetti che vogliono o integrarsi con IVA quando sarà lanciato in MindNet o hanno la necessità, per esempio, di trasferire la liquidità da una blockchain a un'altra blockchain cioè di utilizzare il prodotto stesso. Così anche i nostri investitori, gente comune, possono essere i primi utilizzatori dei progetti in cui investiamo. Questo naturalmente è anche un vantaggio. E poi, i buoni progetti non amano prendere soldi dai fondi comunitari o dai pool. Perché? Perché, come ho detto prima, ci sono i flipper. Di solito, nella configurazione attuale, nella fase attuale del mercato, nei pool e nei fondi comunitari, ci sono persone che vogliono comprare un token al più buon mercato possibile e venderlo il più velocemente possibile non appena si appare. Cioè, non gli importa affatto come si svilupperà il progetto e l'orizzonte di pianificazione in questi casi e di alcuni mesi. A lungo termine non è sicuramente una strategia vincente. Sì, era possibile fare un ottimo profitto in questo modo qualche mese fa. Ma se parliamo di seri piani a lungo termine, di costruire un serio capitale stabile, a nostro parere questa strategia non è adatta. Se un progetto capisce che ha a che fare con un fondo comunitario e vengono poste queste domande, cioè non solo noi raccontiamo ai fondi di capitale di rischio il nostro progetto, come lo creiamo e rispondiamo alle loro domande, ma anche noi facciamo domande agli investitori. Siamo pronti a prendere questo investitore? Per esempio, non prendiamo fondi comunitari in questo momento, o molto raramente solo quelle che conosciamo personalmente, che ci assicurano che non venderanno immediatamente i token, non appena si sarà presentata l'occasione. Saranno gli investitori che mirano allo sviluppo a lungo termine del progetto. Proprio questo tipo di investitori ci vogliono nel private round. Perché allora dargli un'allocazione a un prezzo basso e se poi vuole semplicemente scaricare alla prima occasione? No, nel private round vengono raccolti proprio gli investitori strategici. Almeno dovrebbe essere così. Purtroppo, nella realtà di oggi, questo non è sempre così. E' peggiore il progetto più ha il compito di prendere solo dei soldi da chi darebbe. Più il progetto è buono, più tende a rifiutare quel tipo di denaro. E così per noi non è una posizione vincente se diciamo che siamo un fondo comunitario. Perché subito all'entrata dovremo spiegare che non siamo dei flipper, che siamo disposti ad aiutare il progetto a lungo termine. Questo è uno svantaggio. Quali altre domande possono esserci? C'è per esempio il prodotto Ava. E Ava di per sé è un ecosistema. Un ecosistema blockchain o un ecosistema cross-chain? Sì, fa parte dell'ecosistema DJU, ma allo stesso tempo Ava stesso è un enorme ecosistema che deve avere un fondo di capitale di rischio. e lo avrà secondo la strategia di sviluppo del progetto. Il fondo di capitale di rischio dell'ecosistema Ava può avere un nome proprio. Inoltre parliamo del fondo di capitale di rischio dell'ecosistema DJU. Qui sorge una domanda. Si tratterà di fondi diversi o di un unico fondo con un memorandum di investimento finalizzato sia allo sviluppo dell'ecosistema DJU che allo sviluppo dell'ecosistema Ava? Un'altra questione da pensare allora. Ci sono anche diversi approcci alla raccolta di fondi per il fondo. Ci sono pool che raccolgono fondi per ogni singolo progetto. Si tratta di un'attività di gestione supplementare. Ma cosa succede se non hanno raccolto i soldi, ma al progetto avevano già promesso che avrebbero investito? Anche qui ci sono molti dettagli. Qui posso dire che non siamo assolutamente pronti a percorrere questa strada. Probabilmente ora propendo a una soluzione fortemente compromessa. Non è ancora sicuro in una dichiarazione, in una decisione definitiva, ma come opzione possibile sarà un fondo per un certo periodo di tempo. Per esempio, per 3, 4 o 5 anni. Per un periodo relativamente lungo. Per il classico mercato del capitale di rischio, 3 anni sono pochi. Per i flipper che vogliono fare X in 3 mesi è molto. Molto probabilmente sarà qualche altra categoria di investitori, compresi i classici fondi di capitale di rischio, che possono essere investitori nel nostro fondo. Cioè un fondo con un proprio memorandum di investimento. Quando decideremo se EVA e DJU avranno fondi diversi, molto diventerà chiaro. Per ora, tuttavia, siamo propensi a un unico fondo. Allora sarà necessario capire quale sarà la sua strategia che sarà esposta nel memorandum di investimento. Cioè le regole del gioco secondo le quali questo fondo giocherà in questi 3-4 anni. E poi, finanziamento. Probabilmente siamo pronti a dividere questi pagamenti in modo che non tutto il denaro finisca nel fondo subito. Perché non serve tutto in una volta. Se pianifichiamo un fondo, per esempio, per 3 anni, viene lanciato con 10 milioni di dollari. Non significa che siano necessari subito nel primo mese. Non investiremo 10 milioni di dollari immediatamente nel primo mese. Nel primo mese analizzeremo e nel secondo mese investiremo 100 mila dollari in un progetto, 300 mila dollari in un altro, 50 mila dollari in un altro progetto e così via. E questi investimenti saranno divisi sulla linea del tempo. Questo sarà simile a pagamento a rate con azioni DJU. Potrebbe essere un pagamento a rate, per esempio, per 5 pagamenti ogni 2 mesi. Questo è solo un esempio. Ci penseremo ancora. E molto probabilmente sarà un fondo misto. Avremo sia denaro istituzionale che denaro comunitario. Denaro istituzionale da grandi investitori o da grandi progetti che vogliono integrarsi con noi o da alcuni grandi fondi internazionali di capitale di rischio. E della nostra comunità di DJU e dalla comunità di EVA. A proposito, al momento ci sono 300 mila persone nella comunità di EVA. Forse da qualcun altro, dai loro conoscenti e così via. Finora si vedono queste combinazioni. Ora è difficile dire in modo più concreto. Penso che le cose concrete appariranno più vicino al lancio del progetto EVA a MyNet. Fantastico, onestamente. Al momento ci rendiamo conto che forse all'interno della nostra comunità questo prodotto non sarà per tutti. Probabilmente non sarà comprensibile per tutti. Ci sarà una solida ingresso in questo progetto, no? Ora, ascoltando questa intervista, tutti gli investitori, i partner hanno ancora tempo per prepararsi per studiare le parole sconosciute che Alexander ha appena detto, studiare il mercato e il campo in cui svolgiamo la nostra attività, in cui pianificate di svolgere la vostra, di guadagnare o di svilupparsi. e avete ancora tempo prima del lancio finale di questo prodotto. Penso che andremo in onda con questo argomento più di una volta, scriveremo post su questo argomento e faremo interviste simili. Forse presenteremo prodotti o progetti che saranno i primi ad entrare nel nostro ecosistema attraverso questo modo. Vorrei aggiungere che c'è stato un periodo quando da noi si rivolgevano 5-6 progetti al giorno. Adesso un po' di meno, perché avvengono certi eventi geopolitici. In generale, la nostra attenzione è un po' spostata ora, perché il lancio del progetto IVA richiede un enorme sforzo. Lavoriamo 12 ore al giorno, periodicamente senza giorni liberi. In questo momento una parte della quadra si trova a Dubai. Ci sarò anch'io nel prossimo futuro e anche l'exei ci sarà tra poco. Ma Eva ha già iniziato il lavoro, la prima conferenza ieri, a cui avevamo programmato di partecipare. Lo guarderei anche da una prospettiva diversa. Abbiamo parlato del fatto che altri fondi di capitale di rischio possono investire attraverso il nostro fondo di capitale di rischio. Questo conferma che i fondi investono attraverso altri fondi, ma dall'altra parte questo ci apre anche le opportunità di investire in quei progetti in cui investono migliori fondi internazionali di capitale di rischio. Perché non siamo solo noi a ricevere i progetti, ma anche loro. E li selezionano, fanno anche le loro analisi, gli danno il loro supporto. Quindi è una collaborazione. Il mercato del capitale di rischio è molto piccolo. Tutti si conoscono attraverso una o due strette di mano. Qui la reputazione è molto importante. Se avevi detto che non avresti venduto i token, e quando erano sbloccati e li hai venduti, questa voce si diffonderà sicuramente sul mercato e i progetti normali non prenderanno soldi da te. Ci sono molti dettagli, ma è un'opportunità per investire con grandi fondi di capitale di rischio. E più si va avanti, più ci si sorprende. Ciò che ci sembrava irraggiungibile, ora è a un passo, a una stretta di mano. Se dobbiamo conoscere qualcuno, comunicare, ci sono persone che possono presentarci, che possono farci conoscere. L'unica cosa è che dobbiamo andarci seriamente preparati, per avere qualcosa da dimostrare, per avere qualche traction, per avere qualche successo, qualche roadmap percorsa. Quindi penso che in questo modo apriamo l'opportunità a un gran numero di persone di investire con migliori fondi di capitale di rischio. Penso che questo sia molto bello. Anche sei mesi fa non avevamo idea di quanto bene sarebbe stato possibile realizzarlo. Quindi penso che questo sia un motivo per essere orgogliosi. Non ci vantiamo di questa storia. Continuiamo a lavorare metodicamente, lavorando su tutte queste domande. E forse sai cosa proporrei, Alexei? Probabilmente ha senso fare una pagina nell'account personale, dove sarà possibile lasciare una richiesta preliminare con un'indicazione dell'importo e del periodo. E così capiremo quanto la gente capisca il nostro prodotto, quali sono le possibilità finanziarie, qual è il pubblico ora, e capiremo già il potenziale approssimativo della somma all'inizio. Perché è una storia di immagine, reputazione. Quando dici ho un fondo di 50 milioni di dollari, allora ovviamente i progetti e gli altri fondi sono più disposti a negoziare con te. Il minimo di cui hai bisogno per farti parlare da persone più o meno serie è 5 milioni di dollari. Questo è proprio scalino iniziale, alcuni scolari sono venuti a giocare. 50 è già una cosa seria, anche se questa non è la cifra più grande. 100, 200, 300, 500 milioni. Fondi dell'ecosistema di vari blockchain ottengono 300 milioni di dollari di investimenti solo per lo sviluppo del loro ecosistema. Henderson Horowitz lascia fondi per miliardi di dollari. Ma 50 in generale va bene. Si può già fare qualcosa con esso. Anche se il primo fondo è chiuso, cioè è raccolto e ha il proprio memorandum di investimento, non significa che non può cominciare a funzionare parallelamente un secondo fondo con un memorandum di investimento diverso, con una strategia diversa. Non escludo questa variante, perché ad ogni passo impariamo di più su questo mercato. diventiamo più esperti, abbiamo più contatti, più opportunità. Può essere paragonato a quando la gente gioca, giochia il computer. C'è un gioco di strategia Heroes of Magic 3, il mio gioco preferito da bambino. C'è una mappa nera chiusa ed è aperto un piccolo cerchio intorno al castello dove si trova l'eroe. E quando l'eroe corre, lo spazio si apre e si vede di più. Siamo più o meno nello stesso stato. Finché non avrai fatto un passo, finché non avrai fatto questi passi, non vedrai più opportunità. Non vedi che qui c'è una miniera d'oro, qui c'è legno, qui c'è un mostro e qui ci sono montagne da girare. Quindi invito tutti ad agire. Noi agiamo. Non tutto succede in modo facile, è sereno come potrebbe essere. Sicuramente anche diversi eventi esterni e la geopolitica influenzano in un modo che non potevamo immaginare. Ma finora vediamo che è una strategia che funziona e diventa solo migliore. Noi diventiamo migliori, diventiamo più seri, più ambiziosi, più maturi in un certo senso. E credo che realizzeremo tutti i nostri piani. Alexander, è un discorso che ispira molto e soprattutto quella metafora sul gioco al computer. Sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto. Per quanto riguarda l'implementazione delle idee in un account personale, sono anche completamente d'accordo. Perché quando abbiamo iniziato a scrivere post su questo argomento, appena abbiamo cominciato a parlare del nuovo prodotto, abbiamo ricevuto un sacco di feedback positivi nei canali, nelle chat, nel supporto tecnico e nelle email, ovunque i nostri partner fanno le domande. Penso che quando uscirà questa intervista o nel prossimo futuro, realizzeremo questa forma di richiesta, lavoreremo su queste domande, punti che sono importanti per te, per capire la reazione della nostra comunità e che saranno comprensibili alla nostra comunità. Ti ringrazio per questa intervista. È stata ampia e comprensibile, secondo me. Invito tutti a iscriversi alle nostre reti sociali e a diffondere questa intervista. Sarà disponibile in diverse lingue e tutti i partner potranno studiare in modo dettagliato e approfondire le loro conoscenze dello stato attuale del mercato del capitale di rischio. Grazie Alexander. Saluto tutti. A presto. Grazie. Grazie colleghi. Arrivederci.